Un saluto a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel e a tutti i tifosi neroverdi dalla sede centrale, dal quartier generale dell'USD Castellanzese 1921, dove fervono i preparativi per la stagione 2016-2017, una stagione molto molto impegnativa, ricca di sfide, ricca di ambizioni per tutto il mondo neroverde. Io sono in eccellente compagnia con uno dei nuovi acquisti per quanto riguarda la dirigenza della Castellanzese, vale a dire Giovanni Canestrale, al quale io do il mio benvenuto da parte di tutto il mondo neroverde, in qualità di direttore sportivo. Giovanni Canestrale prende quindi la carica di DS a pieno titolo, è già al lavoro, mi conferma il direttore, già da più di un mese sta componendo quella che sarà la Castellanzese dell'immediato futuro e già la Castellanzese del presente. Quindi io le chiedo subito direttore, come prima domanda, oltre che rinnovarle ovviamente il benvenuto da parte di tutto il mondo neroverde, quali emozioni si provano ad aver raggiunto questa carica? Una carica importante, il suo ruolo sarà molto molto determinante per il proseguo e per tutta la stagione della Castellanzese. Quindi le sue emozioni da direttore sportivo della Castellanzese. Come dicevo l'altra sera, quando abbiamo presentato la Rosa, ho ringraziato sinceramente il Presidente per avermi chiamato a far parte in questa famiglia, in questa nuova avventura. Sono venuto qui motivatissimo per poter far bene, visto che comunque è una società che negli ultimi anni ha fatto veramente grossi sacrifici, ha lavorato veramente bene a livello calcistico ed è giusto adesso venire qui a farne parte per cercare quest'anno di riuscire magari a raggiungere quel famoso obiettivo che già da qualche annetto che si aspetta con tanta voglia. Quindi l'innesto di un DS con grandi numeri, con tanta professionalità a fare da biglietto da visita per raggiungere, l'ha detto giustamente lei direttore, quell'obiettivo, quella promozione in eccellenza che davvero è sempre l'obiettivo chiave per tutto l'ambiente nero-verde. Come seconda e ultima domanda direttore io le chiedo, abbiamo parlato di presente e di futuro. Il suo ruolo è determinante non solamente per la prima squadra che lei sta già componendo insieme agli altri vertici della società sono arrivati degli innesti importanti per rafforzare la Castellanzese, la prima squadra, nella prossima stagione ma anche ovviamente quello che è ulteriormente il futuro, vale a dire le giovanili. Lei sarà diretto responsabile soprattutto del settore Juniors, quindi come si gestisce questo suo ruolo di tramite tra società e squadra e come soprattutto si vanno a selezionare i talenti che non solo devono fare bene oggi ma che devono essere un'eccellente promessa a tinte nero-verde per il futuro. Abbiamo fatto un ottimo lavoro anche perché io penso sempre che comunque l'obiettivo della società è quello di far crescere i propri giovani, per poterli poi far risordire in prima squadra e valorizzare quindi un lavoro fatto durante la stagione. Per quanto riguarda la Juniors abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro, abbiamo preso dei ragazzi interessanti, giovani, 2099, già con prospettiva per quest'anno e per la prossima stagione. Per quanto riguarda anche il discorso di Juniors siamo convinti di aver fatto una rosa importante dove potremo pagare, tra virgolette, il livello di esperienza durante la stagione in un regionale A, ma sono sicuro che il livello di qualità possiamo giocarci con tutti. Io direttore la ringrazio ancora da parte di tutto il mondo nero-verde, da parte di tutta Nero Verde Channel e da parte di tutta la Castellanzese, benvenuto in famiglia, come si suol dire in queste situazioni, le premesse sono eccellenti, lo staff è più che eccellente e quindi l'eccellenza può essere davvero alla portata di tutto il mondo nero-verde. Io ringrazio Giovanni Canestrale, un saluto a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel e a tutti i tifosi nero-verdi. Alla prossima!